Prendete delle donne e degli uomini, turisti e non con la voglia di ballare. Una location stupenda, le stelle e la luna in questa splendida serata di agosto e scegherate tutto. Che cocktail ne uscirà? Beh, il robot! Fabio Marzo è il vocalist di questa splendida serata. Che repertorio ci aspetta? Allora, il giovedì del Rio Boy è dedicato esclusivamente alla musica italiana. La musica italiana che è stata riportata in auge durante quest'estate proprio dai DJ un po' di tutta Italia. Ed è stata una riscoperta, una bella sorpresa perché non ci aspettavamo che la gente la amasse così tanto. Abbiamo scoperto anche un nuovo modo di ascoltare la musica italiana che è ballarla. Ed è stranissimo, fa un certo effetto. E questa Miss che è addosso? Ah, la Miss cambia ogni giovedì. Stasera mi sentivo un po' capitano e allora portiamo avanti questa nave che funziona da un sacco di anni. Devo dire che anche quest'anno è stata una conferma importante. Grazie. Grazie a voi di Lecce News. Ciao, un bacio. Ragazzi, vi aspettiamo tutti a Rio Boy. Da dove venite? Napoli. Napoli. Forza Napoli. Solamente. Forza Napoli. Qui in vacanza? Sì, in vacanza. È la prima volta? No, è la seconda, ma sarà anche la terza, la quarta, la quinta. Sempre Salento. Sempre Salento. Sempre Salento. Ciao, 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 ciao. Siamo con Luigi, uno dei due dell'organizzazione. È iniziata questa serata Bar Italia? Sì, allora iniziamo innanzitutto per salutare il Salento e la Puglia che ci ospita. È il Rio Boy. Sì, è una serata del giovedì, vinile passione, con dentro Bar Italia musica italiana. Ogni giovedì è un appuntamento fisso. E la novità, anzi l'appuntamento, tra un po' arriverà una sorpresa. Che sorpresa è? La sorpresa? Vabbè, c'è l'animazione che comunque ci accompagna per tutta la serata, ma la novità della serata in assoluto è la trasformazione del Rio Boy Alto con Bar Italia musica italiana e Vanni DJ. La festa è finita e viva la vita! È la prima volta qui nel Salento? Sì, è la prima volta, devo dire... E ci tornerete ogni anno? Dillo! Eh, ogni anno. È un impegno serio questo. C'è tanta gente, la musica è divertente, ci stiamo già divertendo un pochino, io sono già quasi arrivato, quindi... Comunque è bella, è una bella serata, la proletta è bene. Speriamo che mantenga la promessa. Allora, da dove vieni? Ciao a tutti, vengo da Potenza, insieme ai miei amici. E poi è arrivato. In vacanza? In vacanza siamo da... sabato sera siamo arrivati. E partite? Partiamo purtroppo domenica. Eh, purtroppo. Eh, purtroppo, perché vuoi fare? Sarà un peccato lasciare tutta questa bella gente qua. Cosa ci dici, Dillo Bo? È un locale fantastico, è la terza volta che vengo in pochissime sere, è bellissimo, bellissima gente, bellissima musica, dove di tutto, molto bello. Vai con la voce, vai con il cuore! Mamba, che spettacolo! E qui vi voglio il cuore, tutti insieme! Tornato! Cosa! Uh, oh, 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 oh. Perché voglio questa festa senza di te. È i Fiesta! Fiesta, ma che bella, ma che bella questa festa, ma che bella non sa farei senza di te. E ho capito che non si deve dire mai la verità. E ecco perché voglio questa festa che viene a te. È i Fiesta! Fiesta, si upper te la mezza. Río Copp. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me, notti intere, ad aspettarti, ad aspettarti, Vimmi! Vola, guagliera, gialla, tu saprai che qui si parla, e il tempo volerà. È arrivato il momento di fare un giro tra la folla. Ciao, da dove venite? Nardo! Bari, provincia di Bari. Qui in vacanza? In vacanza? Sì, in vacanza. Com'è questa musica? Mi piace, bella. Mi piace? Divertentissima. Fai partire, Enrico, quello giusto! Canta! Dove vieni? Napoli. Qui in vacanza? Sì. Con loro? Con le tue ragazze? Con le amiche. Fate un saluto! Ciao! Ciao! Intervista consiste nel cantare. Acqua azzurra, acqua azzurra, acqua azzurra, con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi, innocenti, posso ancora riprovare il tuo fumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Dove venite? Dove venite? Napoli. Qui in vacanza? Certo. E a Riobò? A Riobò? Cosa ci dà? Riobò sempre, Riobò forere. Solo Riobò. Dove venite ragazze? Sì! Qui in vacanza? Sì! Viva il Salento! Viva il Salento! Viva il Salento! Mi ha un saluto! 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 Questo è lo spettacolo! Giovedì da l'Italia Riobò! Vero! Gio! Canta Riobò! Spendono le luci! Tacciono le voci! E nel buio senti sussurrar! Vero! Vuoi ballare con te! Oh! Grazie! Mi preferisco! Vero! Canta Riobò! No! Succederà più! Almeno per me! Mi ha male che no! C'è un giro che comporta l'amore un attimo! Un mondo semplice! No ci stiamo divertendo tantissimo! È bellissimo! Fabio Marzo è il capitano di questa nave! E' una splendida serata! Ragazzi venite a Riobò! Venite numerosi! Ciao! No! 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 Neste… Grazie a tutti